Imprenditoria Veneta che cresce nonostante il periodo difficile legato agli aumenti dei costi delle materie prime. Risvolti positivi per l'economia locale e per l'occupazione giovanile. Un aspetto che alla luce dei nuovi investimenti nel polo commerciale di Santa Maria di Sala assume una valenza strategica per lo sviluppo del territorio che proprio oggi ha visto l'inaugurazione di un nuovo importante punto vendita. Ci sono molti giovani occupati e quindi questo ci fa molto piacere. Un'attività che mancava in questa zona e quindi davvero ringraziamo chi ha pensato a questa intrapresa commerciale. Una nuova opportunità a questa bellissima realtà con un importante inserimento di giovani che lavoreranno in questo negozio. Si parla di 20 unità del punto vendita. Questa nuova apertura si inserisce in una più generale fase di crescita collettiva del comparto. Una crescita sia di offerta che di lavoro. Dà la possibilità di ampliare l'offerta merceologica da offrire alla propria clientela. E questo trend vale sia per il nostro territorio che per l'imprenditoria del Veneto all'estero. I punti vendita sono 13 in Italia e abbiamo anche due punti vendita in Polonia, di cui siamo molto orgogliosi. Siamo lì dal 1993, quindi abbiamo una grande esperienza anche in Polonia. Diamo al lavoro circa 670 persone. Sì?